Musica Hi people of youtube Welcome back to a new episode of Centro Una a parte gli scherzi Benvenuti in quella che dovrebbe essere L'ultima missione dei Rollers Prima di andare avanti C'è un piccolo numero che vorrei Provare a chiamare Per vedere se succede qualcosa Il numero è Cinque 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 Nove sei sei Chiamiamo You have reached eye for an eye Voodoo supply The forces around us are keeping us busy And unable to answer the phone After all The land of the living and the realm of the dead Are always connected Should you experience a tragic loss Don't hesitate to call And we'll see how the spirits receive you Ok È un servizio voodoo In teoria qualcosa dovrebbe succedere Se noi lo chiamiamo Sbloccato Lean zombie Yes Ecco cosa doveva succedere Lean Zombie lean Dov'è Dov'è Ecco la Oh Allora Prima di tutto Bellissimo dettaglio Che lei è tutta Moribonda Seconda cosa L'auto funebre è bellissima Terza e ultima cosa Penso che Lean sarebbe contenta anche da zombie di essere in questa missione Non so se sia forte o no Non mi interessa Voglio portarla Per ovvie ragioni E poi sta cosa degli zombie In centro La portano avanti ormai da anni È dal primo capitolo che se la tirano dietro Fantastico Per avviare la conquista della roccaforte dei Westrollers Ok questa è una roccaforte Ma non è la missione Ah quindi aspetta dovrò conquistare probabilmente la loro ultima roccaforte Ed infine probabilmente sempre nel nostro covo si sbloccherà la missione finale Proviamo Casa padronale di Prince Ah beh Giustamente Introduciti in casa di Prince Venite ragazzi Che facciamo un po' di casino E vediamo come combatte Lean Zombie Secondo me è male Cioè nel senso Secondo me è È solo Una facciata Dov'è Devo vederla Allora Danno lo prende E mi sa tanto che è solo melee Scusami Oh Ma che dettaglio Incredibile Lei combatte con il braccio Ma che figata Ma che figata Ma sul serio Guardala Guardala che le insegue Brains Vai Lean combattilo Ed è morta Ed è morta Ovviamente Ecco te Torna in vita va Dove l'hai presa quella bomba Tu pazzo Pazzo assassino Vai menalo Vai menalo È stato molto divertente È stato effettivamente molto divertente Vederla menarlo col braccio Prendiamoci le chiavi della macchina Ho lasciato andare Lean Perché tanto era inutile Guardali che arrivano alle spalle Codardi di merda Codardi di merda Ecco fatto Aspetta che mi Occupo di tutti voi Guarda quanta gente Guarda quanti sono Santo cielo Vi faccio esplodere a tutti Oh aspetta Ecco fatto Credo di essermi Liberato di tutti quanti Ecco fatto Aspetta che Rianimo tutti Tranne Lean Perché appunto è inutile Ehi ehi Non bloccarmi Non bloccarmi Che io devo Ecco Questo è stato un vero casino Però perlomeno La gamba Ok Pensavo che era quella Del mio companion Ritirati su anche tu Così voi mi proteggete Mentre io Rubo la macchina Tra un secondo Ecco fatto Oh Finalmente Forza Uno salga in macchina Per favore Ragazzi Bravo 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 tu che sei salito Madonna E' bella veloce Questa macchina Che miseria Ci credo che ci sei minati Madonna mia Ok con calma E' talmente veloce Che non riesco a A stargli dietro A sta macchina Guardala Guardala come sguscia Io dove devo andare Qua Ok Mamma mia E' andata bene 7200 Dollari al giorno La macchina Velocissima Ora è mia Che dire Non ci rimane Non ci rimane altro Che aspettare Ora Ecco appunto Va bene Nuova missione Disponibile Basta solo Tornare indietro Dove eravamo Ma poi che senso A finire Questa storia In un concessionario Ma ti pare Eccomi arrivato Al concessionario Vogliamo finire Questa storia Bene Finiamola In grande stile Allora Scusami Ho visto munizioni infinite Per un attimo Dai che figo Che siamo Dai No dai Ti prego Devo inseguirlo Ragazzi Di nuovo in macchina Su Forza Col cavolo Che mi porto Solo due companion Qua me ne porto Tutti quanti Tutti quelli Che riesco Dove sta andando Dove devo andare Scusami Ah ok Mi sta mandando Verso di lui Stavo dicendo Dove sta andando lui Vorrei tanto Che guidasse Uno dei miei companion Per poter guidare Però vabbè Capisco anche Che in questo momento È la battaglia finale Mi ci devo anche Sbattere un pochino Sì Ho capito Ma Quanto sta andando Sto camion Quanto sta andando Veloce Che io non riesco Uno a vederlo E due Non riesco a raggiungerlo Guardalo Pure di sotto Andato Aspetta Ah no Eccolo Minchia Io pensavo Che era andato Dall'altra parte Dannazione Girati Uff Dai Dai Oh Merda Ecco fatto Forza 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 Perfetto Eccolo qua Aspetta Perché ho l'impressione Che ci lancerà Contro quelle macchine Dobbiamo fargli esplodere Quelle macchine Sopra Ma ti levi dalle palle Tu Porca troia Ok dai che ci siamo Quasi Ma 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 levati Polizia Distruggi il taxi Quale taxi Semmai il camion No Oh calmi tutti Dai che manca uno sputo Ecco Oh Oh dove va Ok Mallevatevi tutti Vabbè Missione completata Come ha fatto A schiantarsi Contro un camion Vabbè Mentre non lo vedevo Probabilmente Ah Le chiavi di casa Giustamente A dopo Sovrano di Stillwater 5000 dollari Complimenti Guerriero della strada Alloggio nuovo L'auto di Julius Le auto dei Rollers Promozione sul campo Con anche il coro Vabbè Dai We did it play Third street Ons this town But it's not to say Shit didn't cause And I don't know what happened to Johnny's leg Or losing limb Those two were soldiers They knew the risk Adesso arriva Manuel Giustamente Benjamin And the Colombians In our pocket They're not going to be a need For a gang war Ever again And in the end Lui si bella zoccole Lui si ubriaca Il braccio destro Addirittura Beh con tutto quello che ho fatto Ci mancherebbe anche Yeah bravo Lui è bravo Sì Siamo cattivissimi Come è finito? Sul serio? No 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 Cosa? Perché? Ok Manca ancora un pezzo Manca ancora un pezzo Qui eh Manca ancora un pezzo Che poi si collega Con l'inizio di centro 2 Mi manca ancora Un'informazione fondamentale A me E non me ne andrò da qui Finchè non ce l'avrò Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti